Il governo della Repubblica italiana e la Regione Emilia Romagna. Firmano per il governo della Repubblica italiana il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari regionali e le autonomie Gian Claudio Bressa. Per la Regione Lombardia il Presidente della Giunta della Regione Roberto Maguni. Per la Regione Veneto il Presidente della Giunta della Regione Luca Italia. Per la Regione Emilia Romagna il Presidente della Giunta della Regione Stefano Moraccini. Grazie. 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 Grazie ragazzi. Grazie. 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 Io tengo quello delle miglia così lo controllo. La firma, lì si vede la firma, c'è la prova provata. Eh sì, vorrei avere un obiettivo. Grazie.